Gli uomini non fanno ridere e non riescono a capire la differenza tra battuta e offese, non riescono neanche a capire qual è il momento giusto per dire qualcosa. Vi faccio subito un esempio che mi è appena capitato nei pretem. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il TikTok che vi ho mostrato all'inizio è stato pubblicato in questi giorni da una ragazza abbastanza seguita e ha creato un po' di discussione per le cose che dice. Un paio di persone me l'hanno mandata in DM su Instagram consigliandomi di parlare in un video ed è esattamente quello che faremo oggi perché già dai primi secondi permette davvero bene il mio aspetto delle argomentazioni che mi convinceranno del fatto che noi uomini siamo incapaci di creare battute divertenti e che non capiamo nemmeno quando è il momento giusto per farle. Personalmente porto un po' in disaccordo con la sua affermazione originale. Per esempio, tutti i miei comici preferiti sono maschi e sono pronto a scommettere che se fermassi 100 persone per strada divise equamente tra uomini, donne, bianchi, neri, etero, LGBT e gli chiedessi i loro tre comici preferiti, la quasi totalità sarebbero comici maschi. Penso che ci siano molte cose su cui sia giusto criticare il genere maschile non penso però che l'ironia sia una di queste penso che ce la capiamo piuttosto bene rispetto alla concorrenza ma direi di vedere il video di questa ragazza per ascoltare quello che ha da dirci ma prima, state guardando questo video senza essere iscritti è il momento giusto per iscriversi perché siamo vicini ai 180.000 ringrazio a tutti quelli che lo faranno e guardiamo questo video. Gli uomini non fanno ridere e non riescono a capire la differenza tra battuta e offese non riescono neanche a capire qual è il momento giusto per dire qualcosa vi faccio subito un esempio che mi è appena capitato nei pretè questa ragazza parla di una violenza subita da parte del nonno ok? e questi sono i ragazzi nei commenti posso andare avanti? eccoci ancora a parte qualcuno sano, grazie a Dio eccoci di nuovo quando dicono che la cultura dello STUPR devo dirlo così perché sennò viene censurato il video è normalizzata, mica è un'esagerazione cioè questi sono gli uomini, per loro è una battuta, c'è chi ne frega? e il fatto che ci siano così tanti commenti e così tanti like mi fa capire che la maggior parte degli uomini ormai la pensa così già non gliene frega niente è un'esagerazione cioè per loro puoi paragonare un gioco a un'esperienza del genere perché per loro è questo tipo di dolore e comunque è sempre giustificato che facciano questi atti animali perché poi non riescono a trattenersi ok il suo TikTok va avanti ancora per qualche secondo e lo guarderemo ovviamente ma è interessante notare il suo ragionamento che ha appena fatto che sia TikToker lei ha iniziato il video dicendo che gli uomini non capiscono quando possono fare battute quando non è il caso e che comunque non fanno ridere questa è la sua tesi e per dimostrare che quello che pensa lei sia corretto non va a prendere degli studi scientifici che magari dimostrano che le donne sono più divertenti degli uomini quello che fa è aprire un TikTok leggere alcuni commenti scritti da ragazzi che lei personalmente non trova divertenti e sulla base di questi commenti lei aggiunge alla conclusione che tutti gli uomini non fanno ridere e non capiscono quando possono fare battute sono certo che sia un metodo per fare ricerche assolutamente infallibile ma tenendo a mente questa cosa dei commenti che tra un attimo vedrete ci tornerà molto utile direi di continuare a guardare il suo video comunque è sempre giustificato che facciano questi atti animali perché poi non riescono a trattenersi e buttiamo le stesse tre battute tanto sempre sono tutte battute sulle minorenni o su dei giochi per fare body shaming quello è l'ironia dei ragazzi e se voi vedete è sempre la stessa non escono mai con qualcosa di nuovo o magari guardano un accordamento e dicono ma cosa c'è dei dammi o le battute o sarà comunista lascia poi i commenti è interessante notare come tra tutti gli esempi che poteva fare le è rimasto impresso proprio chi l'ha accusata di essere comunista o dei dammi a quanto pare qualcuno ha fatto centro ma comunque le sue argomentazioni per sostenere che gli uomini non capiscono niente e che non fanno ridere e addirittura normalizzano i rapporti senza consenso una cosa gravissima sono una decina di battute che le ha trovato offensive in dei commenti di tiktok e oltre a questo di argomenti fantoccio che si è inventata lei imitando come ragionano gli uomini devo dire che sarà davvero difficile smentire questo suo discorso demenziale ho provato a cercare il video originale perché volevo leggere anch'io i commenti anche perché non capivo il nesso tra quello che dicevano e la storia raccontata dalla ragazza ma purtroppo non l'ho trovato ho cercato il suo nickname ma erano due emoji e ci sono tipo 7000 profili che si chiamano così ho letto i commenti per provare a vedere se qualcuno diceva il tag di questo profilo ma niente forse sono io che sono incapace ma comunque da quello che ha scritto qualcuno forse ha tolto i commenti quindi sarebbe stato inutile dunque direi che partiremo prendendo per vero tutto quello che ha detto lei l'ironia io penso che sia estremamente soggettiva per esempio a me fa molto ridere il black humor so che a tanti non piace a molti altri sì e va bene così per questo personalmente non penso che esistano argomenti sui quali non si possa scherzare tuttavia penso che ci voglia comunque un certo contesto e un po' di buonsenso questo vuol dire che se ti limita a insultare qualcuno con la n-word o parole simili o insulti qualcuno che appena ha vissuto una tragedia o una malattia in quel caso non hai fatto una battuta stai solo insultando ma sugli stessi argomenti si potrebbe tranquillamente costruire una battuta ma questo ovviamente è soggettivo e se a qualcuno non piace che si scherzi su un certo tema non pretendo che debba trovarlo divertente come del resto però non mi aspetto che lui mi impedisca di fare una battuta su questo tema perché a lui non piace altrimenti se una persona si offende vuol dire che non si può scherzare su quell'argomento vuol dire che non puoi scherzare su nulla perché sarà la persona più sensibile di tutte su ogni tema su cosa penso io sull'ironia dei commenti così su un tiktok di una ragazza che racconta una violenza che ha subito penso che siano assolutamente evitabili soprattutto se fate direttamente nella sua sezione commenti arrivano direttamente a lei ma dei commenti su tiktok stritti da persone che avranno un'età media minore di 15 anni è sufficiente a dire che tutti gli uomini sono così e normalizzano una violenza dovrebbe essere una domanda retorica dato che la risposta è chiaramente no ma quanto pare per molte persone è veramente così trovo abbastanza svilente dover davvero spiegare a un adulto perché se un minuscolo gruppo di persone si comporta in un certo modo non vuol dire che tutte le persone che hanno una caratteristica in comune con loro si comporta così anche perché questo ragionamento è letteralmente la base del sessismo o del razzismo piuttosto quello che faremo sarà fare lo stesso giochino che ha fatto lei ma a parte invertite per dimostrare quanto sia facile ma anche perché nei commenti c'erano tante ragazze che le davano ragione te lo giuro per davvero letteralmente palese totale e c'è chi commenta dicendo sì ma non sono tutti così qualcun altro risponde sì tutti e uno che ha commentato dicendo che anche le ragazze lo fanno uno ha risposto di trovare una ragazza che fa ironia su una violenza di questo tipo ok sfida accettata e non troverò una ragazza che si comporta così ma addirittura una pagina di meme per pubblico femminile con più di un milione di follower alpha woman che riporta una notizia che dovrò censurare che dice costringe l'uomo a 36 ore di indovinate voi cosa lo trovano in lacrime in strada una notizia veramente terribile 36 ore e una follia e cosa era scritto questa alpha woman e muto con una serie di risate nei commenti come reazione ma alla fine questa è solo una pagina di meme non ho portato delle prove solide come le sue cioè 5 commenti in croce scrittura dei maschi proviamo a ripetere il suo stesso esperimento il suo era un tiktok che parlava di una violenza subito da una ragazza proviamo a vedere i commenti di una notizia che riporta una violenza commessa da una donna ai danni di un uomo sono certo che in questo caso le ragazze avranno solamente parole di supporto per lui per una volta che le prendono loro ci sta con il pollice in su vabbè ma questo era solamente un commento gli altri saranno sicuramente tutti positivi ne sono certo quando cevo cevo brava brava per aver accredit il marito eppure ero convinto che fossero solamente gli uomini a scrivere questi commenti stupidi che strano mica devono essere solo gli uomini a picchiare le donne ogni tanto si sente una cosa buona un uomo che viene picchiato da una donna è una cosa buona eppure io ero veramente convinto che le donne fossero esseri superiori che sapevano quando è il momento giusto di dire le cose e quando no me l'ha detto la mia tiktoker preferita ma sapete cosa questi sono solo tre commenti il prossimo sono certo che sarà positivo salve ovviamente la violenza vale per entrambi i sessi vedete questo è un commento per la parità quando un uomo essere vittima le persone non si mettono a sminuirlo come fanno gli uomini con le donne nero certo continuiamo a leggere questo splendido commento per la parità salve ovviamente la violenza vale per entrambi i sessi ma raramente è la donna che picchia l'uomo fisicamente la notizia mi ha rubato un sorriso a denti stretti la notizia mi ha rubato un sorriso wow bene ogni tanto si sente il contrario brava la signora con tante risate a seguire incredibile quindi oggi abbiamo scoperto che anche delle donne possono sminuire e fare battute su un uomo che subisce delle violenze fortunatamente però chi è dotato di un quoziente intellettivo superiore a 75 e chi non odia un gruppo di persone è in grado di capire che se una manciata di persone di un certo genere si comporta in un certo modo non vuol dire che l'intero genere sia così ma a parte i deliri di questa tizia il suo TikTok parla di un argomento piuttosto interessante e dice che gli uomini non sono capaci di far ridere e che non sono divertenti e questo può essere un suo gusto personale magari trova più divertenti le donne degli uomini e ci sta ma se guardiamo le cose da un punto di vista più ampio la realtà è l'esatto contrario a parte il fatto che basta guardare la lista dei comici più famosi e più apprezzati al mondo e noterete come ci siano solamente uomini ma quando qualcuno gliel'ha fatto notare la sua risposta è stata questa ha detto quella frase una ragazza parava della sua violenza oddio i ragazzi ci hanno reso su perché neanche quello riescono a prendere seriamente e io parlo dell'uomo medio grazie fammi vedere i comici che hanno studiato effettivamente anche per far ridere sia mai che il vostro ego venga in qualche modo danneggiato quindi lei non vuole paragonare i comici professionisti sia uomini che donne che hanno studiato entrambi per vedere chi è più divertente le ha indicato 5 commenti scritti da dei 13 anni su tiktok e ha deciso che quello è l'uomo medio che è un po' come se qualcuno volesse dimostrare che le donne sono più forti degli uomini nel sollevamento pesi quando qualcuno gli fa notare che gli atleti uomini sollevano molto più delle atlete donne lei prende 3 video di dei ragazzini che vanno in palestra per la prima volta e fanno le esecuzioni tutte storte col bilanciere vuoto dicendo che loro rappresentano l'uomo medio e che per questo è scarso ma visto che lei voleva parlare di non comici ma di uomini medi e donne medie per nostra fortuna e sua sfortuna abbiamo degli studi esattamente su questo infatti i ricercatori dell'università del nord carolina hanno analizzato ben 28 studi che analizzavano quanto fossero divertenti circa 5000 persone medie quindi non comici professionisti sia uomini che donne e l'hanno fatto per vedere se questo stereotipo che in media gli uomini sono più divertenti delle donne condiviso da entrambi i sessi fosse solamente uno stereotipo o se ci fosse un fondo di verità in uno studio che viene spesso nominato per esempio in pratica hanno preso un gruppo di donne e di uomini nello stesso numero e gli hanno dato delle vignette disegnate e loro dovevano scrivere delle didascalie con l'obiettivo di rendere divertenti hanno poi mostrato queste vignette a un altro gruppo di persone sempre formato da uomini e donne e gli hanno chiesto di dare un voto a queste vignette in base a quanto l'hanno trovato divertente il risultato è stato che le vignette degli uomini hanno ricevuto dei voti significativamente maggiori sia dagli uomini che dalle donne questo è solamente uno degli studi in totale ce ne sono stati 28 analizzati da questi ricercatori e il risultato è stato che in media gli uomini sono effettivamente più divertenti delle donne per spiegare questa cosa le persone hanno fatto diverse teorie e ci sono anche varie ipotesi c'è chi pensa che semplicemente siamo fatti così uomini e donne sono diversi e l'ironia è una caratteristica più maschile c'è chi pensa che riguardi la nostra evoluzione perché per esempio quando si sente una ragazza che descrive il suo ragazzo ideale tra le varie caratteristiche che deve avere molto spesso si sente che deve essere simpatico deve saperla far ridere essere divertente e così via al contrario quando un ragazzo le scrive la sua ragazza ideale è molto difficile che dica che deve farlo ridere deve saper fare tante battute e infine secondo qualcun altro il motivo è lo stesso che causa ogni cosa che succede nel mondo e cioè il sessismo il patriarcato e la misoginia infatti il motivo per il quale le donne sono meno divertenti secondo loro e ci sono meno donne tra i migliori comici al mondo non è perché sono meno divertenti in realtà ma perché sia gli uomini che le donne le percepiscono come meno divertenti per colpa degli stereotipi e una delle persone che la pensava così è una ragazza una comica che era convinta che le persone non ridevano alle sue battute solo perché lei è una ragazza e se fosse stato un uomo le persone l'avrebbero apprezzata molto di più e per questo ha avuto un'idea geniale travestirsi da uomo e andare a fare uno spettacolo di stand up comedy vestita da uomo mi ricordo un po' un'altra donna Nora Vincent che anche lei era convinta che gli uomini fossero privilegiati ha provato a vivere come un uomo per più di un anno ma poi si è reso conto di quanto fosse difficile ed è stata un'esperienza traumatica e anche l'esperimento di questa comica è finito piuttosto male infatti lei si è vestita in questo modo per sembrare un uomo ha fatto il suo spettacolo ma sfortunatamente non è andato bene quanto sperava lei e questa è stata la sua reazione una volta uscita dal locale grazie a tutti la sua reazione mi fa capire che lei era veramente convinta che l'unico problema fosse che non era un uomo e che le persone non la trovano divertente solo perché è una donna ma quando si è scontrato con la realtà ne ha capito che non è assolutamente così non l'ha presa molto bene immagino che lei fosse convinta di questa cosa sia per tutta la propaganda dei fantomatici privilegi maschili ma anche perché l'alternativa era credere che la sua carriera non stava andando così bene quanto sperava per colpa sua e ovviamente preferiva dare la colpa al maschilismo tra l'altro il suo ragazzo che continua a mentirle forse è convinto di farle un favore ma in realtà penso che sia il suo più grande nemico penso che sia meglio sentirsi dire la verità piuttosto che vivere in una menzogna per tutta la vita sono contento comunque che lei abbia fatto questo esperimento anche perché possiamo aggiungerlo alla lista di tutte quelle ragazze convinte che gli uomini siano privilegiati ma che dopo aver provato a essere un uomo anche solo per poco tempo ne escono devastate in ogni caso per oggi penso che sia tutto sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti per il resto ci becchiamo alla prossima